Ciao, io sono Erika. E io sono Beatrice e siamo le animatrici del centro estivo dell'Hardor San Francesco. Quest'estate ti aspettiamo da noi per divertirci insieme con i tuoi sport preferiti. Come ad esempio basket, pallavolo e calcio, ma anche lavoretti creativi, giochi di gruppo e bagni in piscina. Senza dimenticarci ovviamente dei compiti che ti aiuteremo a fare tutti insieme. Il centro aprirà l'11 giugno e finirà il 27 luglio. Dalle 7.30 alle 18 e per maggiori informazioni potete contattarci. Allora vi aspettiamo in via Militare 3 per divertirci insieme passando un estate indimenticabile.